Allora ragazzi, mi trovo a De Veyes, proprio sotto al Sestrier, che ieri sera naturalmente ho passato venendo dalla Francia e qui ho pernottato, come vedete, l'ombelico di Valzusa. Qui di sotto hanno il ristorante da Sazà, che oltre a essere un carissimo amico, presentato naturalmente da Fabrizio Giovannini di Sanremo, e ho mangiato una cosa incredibile, e ho conosciuto altri due biker, Paolo e Gabriele, che saluto, di Torino, che stanotte hanno fatto un'escursione notturna nella montagna che vedete di fronte a me, questi sono veramente degli esperti, e quindi da qui si riparte per affrontare oggi domenica la via del Sare. Un consiglio, se passate da De Veyes, quindi se venite dal Sestrier o andate verso il Sestrier, fermatevi all'ombelico di Valzusa da Sazà, perché veramente ne vale la pena, per l'accoglienza e per l'ottima cucina. Tra l'altro fa anche un amaro, che è veramente eccezionale. Partiamo per la via del Sare. Ah, dimenticavo! Di racconto! Qui è sempre tutto molto ripido. Ecco, quella è l'autostrada che va su Al Sestrier, e questo qui è il ristorante, l'ombelico di Valzusa. Dove si mangia benissimo. Signora, la saluto. Ciao, buon viaggio. Grazie tanti, ci rivedremo presto sicuramente. Molettiero. Saluti Sazà. Senza. Arrivederci. Ciao. E via. Grazie.